Ci sono giornalisti che arrivano in ritardo come me ma che all'improvviso nelle meravigliose strade di Bari incontrano Tony Sant'Agata qui per la festa del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che compie 60 anni. La festa del Presidente della Regione, Presidente della mia Regione, della nostra Regione, Presidente della Regione dove Tony Sant'Agata è nato, dove Tony Sant'Agata da 83 anni risiede, è il Presidente, dove Tony Sant'Agata paga le tasse da sempre e sono forse uno dei maggiori contribuenti. Perché dico questo? In modo polemico perché a un certo punto io credo che chi guadagna i soldi, ha guadagnato un po' di soldini in altri posti facendosi un mazzo tanto, porta poi dopo le tasse qui in Puglia, voglio dire che dovrebbe essere un benemerito. Quando il Presidente della Regione ti incontra e ti dice domani sera c'è la mia festa, vieni alla mia festa e io dico va bene sì. Grazie